Agli inizi del mese, promuovendo una fiaccolata, erano scese in piazza per chiedere aiuti concreti. Il lavoro è dignità, vogliamo che i nostri mariti tornino a lavorare. Loro sono le mogli degli ex operai dell'indotto dello stabilimento Eni di Gela, stanche e deluse di ascoltare solo promesse. Adesso, assieme ai rappresentanti del Movimento Rosa per la rinascita di Gela, hanno preso carta e penna e hanno scritto al Presidente della Regione, il gelese Rosario Crocetta. Siamo donne, madri, compagne, figlie che lottano ogni giorno per la grave crisi che attanaglia la nostra città, scrivono. Dopo la chiusura della raffineria, molti operai dell'indotto sono rimasti ancora oggi senza lavoro, pur facendo parte della lista di disponibilità alla quale si sarebbe dovuto attingere e che invece sono rimaste lettera muta e sorda per non aggiungere altro. Rivolgendosi a Crocetta, scrivono che molti lavoratori già hanno lasciato Gela per garantire un minimo di sopravvivenza ai propri figli. In questa tragedia sono coinvolte altre famiglie, altri settori, commercianti, agricoltori edili. Nessun settore è immune. La crisi è di tutti e paradossalmente siamo soli, tutti. Una città semivuota e senza lavoro diventa ostaggio della criminalità, sempre più spietata e ingovernabile. Noi siamo degli onesti cittadini che non si vogliono arrendere, che non fanno notizia, che differenziano i rifiuti e che amano la propria città, Gela, che è anche la sua, rivolgendosi al governatore. Non volga lo sguardo altrove adesso, noi non meritiamo tutto questo e siamo convinte che anche lei ne è cosciente. Abbiamo bisogno di aiuto concreto, propositivo, non procrastinabile. L'urgenza della situazione è sotto gli occhi di tutti. Siamo stanche di essere invisibili, siamo stanche di fingere davanti ai nostri figli per non trasmettere loro il nostro dramma. Siamo stanche di combattere contro ogni forma di isolamento ed emarginazione sociale. Abbiamo trascorso, si legge nella nota, un Natale durissimo, amaro, senza lavoro, senza ammortizzatori sociali, senza futuro, ma non vogliamo tranciare quel flebile filo di fiducia che persiste nella politica e nelle istituzioni. Le donne chiedono al governatore Crocetta un incontro per esporre compiutamente e discutere finalmente in maniera esaustiva dei problemi che sono poi quelli di un'intera città e di riflesso anche del governatore, che di questa città è nobile figlio.